senti massimo abbiamo citato leonardo prima io sono curioso di sapere come vi siete conosciuti con leonardo è talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche benissimo no però no ci sia praticamente ora agli anni ma interessa sta roba sì sì a me sì no perché mi piace parlare di morte però allora aspetta ci ritorniamo dopo poi ci si rinfionda lì dentro nel cimitero e penso che è già finito si potrebbe fare a che punto siamo ho visto quella di sgarbi durava tantissima sì sì ma in realtà ti abbiamo sequestrato a mezzanotte in realtà ti abbiamo sequestrato ora ci si sposta per la seconda parte al cimitero ci si sposta per la seconda parte al cimitero io e il paci altro mio grande amico e compagno che noi abbiamo iniziato insieme la prima cosa abbiamo fatto abbiamo fatto la corrida nell'ottanta tre la corrida di corrado e si vinse un televisore solo serie in due e chi lo piglia compreso io ma lui si è tenuto il telecomando non ho mai potuto accettare sì sì è vera non è una gag è vera e quindi noi praticamente dopo quella cosina lì si trovò un manager Giancarlo Testi a Firenze ci insomma ancora come si trovò non mi ricordo però ci aveva visto via e là ci prese nella sua agenzia e noi entrammo dentro l'agenzia e c'era già Pieraccioni che era un aveva iniziato prima era il loro artista di questo Giancarlo Testi e c'era la foto e c'era una foto nell'ufficio che era vi ricordate Benigni con Berlinguer in braccio forza tutti se lo ricordano e c'era Pieraccioni giovanissimo che metterà su un palco e faceva spettacolo si vede con incollo Benigni e di lì già invidia chiaramente subito guarda lui e poi si aprì un cassetto un attimo che non c'era il manager e si vide il contratto di Pieraccioni che e prendeva 300 mila lire a sera e per noi era un sogno dice guarda tu mi intupiglia 300 mila lire a sera quello è stato poi di lì ci siamo incontrati perché chiaramente abbiamo iniziato a fare gli spettacoli insieme ma non insieme cioè lui faceva il suo poi si entrava a noi si faceva a noi collaborazione e poi ho un ricordo e magari lui non se lo ricorderà però io sì di un viaggio perché poi io feci anche un film Benvenuti in Casa Cori e poi io lo guardo ogni Natale anche lì c'è una perletta da raccontare ma non voglio rompere il cazzo però poi dopo si fece un altro film sempre di Benvenuti e lì con Pierazzitti e Mosca dove c'era anche Leonardo e si tutti bello ma va a cacare tutto bello positivo e dai gugulanti no scherzo insomma vabbè mentre si andava a doppiare a Roma mi ricordo di un viaggio questa tagli però sono diventato troppo arrogante e feci questo viaggio appunto con Leonardo dove ci siamo anche lì una specie di insomma di sai colpi di fulmine non è che deve essere per forza con un uomo e una donna sono cose che non ti spieghi che però sono tac di fatti per esempio io e Leonardo anche quando abbiamo fatto i film insieme cioè io nei suoi film quasi mai è difficilissimo riusciamo a fare una scena insieme perché proprio non ci si può guardare perché ride più che più lui proprio ma io ho fatto tantissime scene nei film sua guardando lo scotch cioè senza di lui perché non ce la non ci si fa proprio ma non si sa perché capito ma addirittura delle volte facendo delle scene dove per esempio in macchina io così e lui accanto quindi senza guardarsi niente è uguale è nell'aria proprio capito sono queste cose è questa cosa qui che io ho con lui ed è una cosa appunto che se ti capita nella vita è una fortuna se tu hai un amico così no perché rimane in eterno fino a che non non crepi cioè insomma sono cose che non poi non possono finire mai poi ho detto non ci vediamo per anni non c'è problemi è uguale no appena ti rivedi tac perché sono quelle cose lì